Tu che cosa ne pensi dello spettacolo? È bellissimo! Sta venendo bene! Siete emozionati! È troppo bello! Troppo bello! È bellissimo! Ci siamo divertiti molto! Però siamo ancora un po' impreparati! Poi mi sa che dovremo fare queste cose in generale e ci serviranno moltissimo! E un chilo che pieno sto muovendo! Ti sei divertito? Sì! Sì! E sei emozionato? Sì, assolutamente! Se pensate dei vostri educatori? Tutti qua! E sono brava! Ci insegneranno tante cose! E ci fanno capire tante cose nuove! Sì! Pensi, Salvatore, Annalisa, noi educatori abbiamo fatto un buon lavoro! Sì! 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 Benissimo, avranzi! Questa recita secondo me sarà la migliore del tempo! Sì! 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 Grazie per la visione Grazie per la visione